secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie ma è tutto pagato ma cristo oh cazzo ma che cosa cazzo è successo ho fatto un problema tecnico con il dai ciao michele ciao bello benvenuto grazie mille simo per le 30 patatine e ciao alle campione quattro mesi ciao alle campione sottolineatura qualozzo quattro qualozzo siamo a quattro siamo a quattro let's go ouch poi che andiamo signori 40 su 60 ultimo game poi io andrò a pranzo e noi ci ii z ii z ii z ii z piano ora io non out out cavolo e tu no e nettuno e tu no cazzo le tue nuove gioveva brucio succede brucio pure io sto bruciando chiudo tutto quanto che quanti del duro porti via aspetti come porti via ok bravo ok c'è certo o cristo dio vabbè ma nettuno ci sono ho capito ma questi ci sono no vabbè è una roba che usa rihanna ma che cosa sion il dildo il dildo c'è no aspetta cos'è che usa rihanna comunque il blu kiwi è condensatore a gradiente di pressione un ottimo microfono no non sapevo cosa utilizzasse il gli hanno dato un microfono che vibra e non sappiamo Gio povero oh porco il cazzo oh porco il cazzo oh max ma che cazzo fa oh max che cazzo fai non farlo adesso dai grazie max max 144 fps dall'altra parte li hanno accerchiati vediamo se riescono a pulire la situazione con la pov di gene due punti per loro una kill e un punto di top forse la top non so che top sia come va la testa no migliorato un po grazie amore mio grazie amore mio gene due kill per lui davanti ancora 60 punti mi sembra di leggere a me sembra proprio un 260 no nacco ragazze fortissimo loro sono sempre sempre presenti poi nelle grand final non non finalizzano però arrivano sempre sempre in finale gli manca proprio la marcia finale per per cominciare a a palizzare god sia in duo che in trio sono veramente fortissimi un'aranciata un succo di frutta ogni giorno ragazzi 20 per cento di sconto col codice ex iuderone tanta roba buonissimo puttana che buono andiamo grazie mille scusi se ho fatto con la sua live no 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 ma che anzi è secondo me si uomo secondo me si ancora qua no no ho paura ok no no forza 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 ciao simo let's go sono due sono due che ti segui tanto seguiamo rodolfo ciao rodolfo zapdos refresciamela pure ogni 60 secondi se è possibile refresciamela pure ogni 60 singolo per i conti miei e mi sono incrociato con un player una persona ci siamo scontrati gioco di guerra ok da questo scontro sono uscito miracolosamente vincitore non so come ok però il tipo mi ha tirato due sberle ok e quindi io li dopo per l'ammazzata mi sono messo a curarmi sì però c'è quando mi mi era coperto da dietro sì e quindi mi è arrivato un e allora io li mi son detto no ma non ci credo ma non c'è chi nato la casella è scesa non sono più puoi fare qualcosa di intelligente per favore invece di fare queste famiglia un aneddoto risentire ad shop snake that's job night oh cristo dai concentrato Sì Cazzo! Sì cazzo! Let's go! Sì cazzo! Sono un coglione. Sono un coglione. Sono due faccina che ride a crepa pelle. Faccina che ride a crepa pelle. A crepa pelle. A crepa pelle. A crepa cazzi. A cazzi a bazzi. A crepa pelle. Faccina che ride a crepa pelle. Faccina che ride a crepa pelle. Perché? Perché? Che sta ingasellato come le bestie. Puttana eva che cosa sta facendo Vincenzo. Anche io. Da me uno. Prendete tutte le tuffe adesso. No, mi ha lasciato il pompa. Non ci credo, mi ha lasciato il pompa. Occhio. Mi faccio un big. Rompimi il muro, rompimi il muro. Ok, ok, ok. Qua, qua, qua. Basta qua, 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 qua. Qua, 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 qua. Mi sapevo quel pompa, già. Devi andare dove? Ah, dentro, dentro, dentro. No, zio muoio, muoio, muoio. Mamma! Papà! Voi spendete ogni anno centinaia di euro per magliette che magari io sporco si rompono e oppure si scoloriscono. guarda questo sito www.xuder.it è il sito del mio streamer preferito che vende prodotti made in Italy 100% certificati in cotone e con le stampe indistruttibili. Mamma, se fai la lavatrice anche ad acqua calda oppure ad acqua fredda non si scolorirà mai la maglietta. Papà, ti prometto che la metto anche al giorno del mio matrimonio. Cacciateli sti soldi, compratemi la maglietta. Mi piacerebbe stare in Lussemburgo? Ma che cazzo ne so...